Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Un video molto importante e molto interessante perché, come avete potuto leggere bene dal titolo, praticamente già alcune persone hanno raggiunto il livello 1000 nei prestigi di Call of Duty Black Ops 3. Come sapete l'ultimo livello previsto per quanto riguarda i prestigi è il livello 1000. Praticamente la notizia arriva direttamente dal profilo Twitter di DoomClan, dove nel ringraziare ColdSightTV, Big Falls, Susuperio, Rebounds, FIFA Kill e Garge Zero, praticamente annuncia che sono i primi ad aver raggiunto il livello del prestigio 1000. Infatti se potete leggere anche dall'immagine, Doom The Race Prestige Master Level 1000. Quindi a quanto pare sono le prime persone che hanno finalmente raggiunto il livello 1000 nei prestigi di Call of Duty Black Ops 3, senza hackerare, senza trucchi, senza niente. Fatemi sapere invece voi a che livello e a che prestigio siete su Call of Duty Black Ops 3, quindi del multiplayer. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie.